super fish by gabrie, ecco qua eccoci qua con gabrie che ha preso un super pescione direttamente dai laghi di manto ma dopo ore e ore e ore ce l'abbiamo fatta dai, super pescione, li soffesiamo e poi giustamente li lasciamo e abbiamo preso un altro peggiotto, sempre a manto ma manto grazie